In questo video vedremo come fare delle ricerche attraverso le funzioni cerca verticale e cerca orizzontale. Queste due funzioni servono per, per quanto riguarda cerca verticale, cercare un dato all'interno di una tabella sviluppata in maniera verticale. Invece per cerca orizzontale, cercare un dato sviluppato in una tabella in orizzontale. Allora, ho già creato qua una maschera e noi vogliamo cercare, abbiamo queste due maschere, questi dati, nome di page, nome cognome, ora ritardo alle malattie, età, numero di telefono e disponibile al spostamento dei dipendenti riportati in queste due tabelle. Quindi, per compilare questi campi dovremo utilizzare sia cerca verticale che cerca orizzontale. Iniziamo con cerca verticale. Ora, qui ho fatto per esempio un piccolo esempio. Il lavoro finito dovrebbe essere fatto in questo modo. Io scrivo qua il numero di page 101 e lui mi dà il nome del dipendente che ha il page 101. Una volta finito il lavoro, tutti questi campi si popoleranno con i dati relativi agli identificatori che ho scritto sopra, numero di telefono, età, disponibilità, anno, eccetera, eccetera. E faremo due tabelle perché poi in futuro attraverso queste due tabelle svilupperemo un grafico. Ora, iniziamo a fare, per quanto riguarda questo video, l'applicazione delle due funzioni. Quindi, vogliamo cercare per esempio il dato e cognome. Quindi, che cosa faremo? Le chiameremo la funzione cerca verticale, dal menu funzioni, doppio clic e ci chiederemo di inserire un valore. Il valore, gli diremo di leggere il valore inserito dentro la casella D8. Poi, per quanto riguarda la tabella, noi gli andremo a dire che la tabella nel quale deve cercare il dato è la tabella verticale che vedete qua sulla destra. Poi gli diremo l'indice. L'indice non è altro che la colonna. Il conteggio della colonna parte dalla prima a sinistra. Quindi, dobbiamo cercare il cognome. Sarà 1, 2, 3. Il terzo indice è cognome. La terza colonna, in poche parole. E scriveremo 3. Poi ci chiedeva di inserire un intervallo. L'intervallo che significa? Gli chiediamo se lui deve cercare un intervallo, un valore che sia identico e basta, quindi falso, oppure scrivete 0. Oppure, se mettiamo vero, lui cerca tutti quei valori che sono vicini. Se io gli scrivo 100, lui può cercare o 101, o 102, o 100.5. In questo caso, siccome lavoriamo su dati esatti, il numero dei begi dei dipendenti, li mettiamo falso. E qui abbiamo il nome e il cognome. Ora, stessa cosa, ore di ritardo o di malattie. Qui andiamo a lavorare sulla tabella orizzontale, quindi utilizzeremo la funzione cerco orizzontale. La funzione cerco orizzontale è identica, funziona allo stesso modo, soltanto che quando andremo a inserire l'indice, invece di cercare la colonna, andremo a cercare le righe. Quindi, che cosa facciamo? Le chiamo la funzione, cerca orizzontale, il valore che gli dico è sempre di 8. La tabella, in questo caso, sarà non più questa, ma questa. l'indice, che cosa gli dico? A questo punto gli devo dirgli, che cosa vuoi tu come indice? Allora, abbiamo il badge, non ci interessa, l'ora di ritardo che è la seconda, e poi la terza è vuota, la quarta che è malattia. Noi stiamo compilando il campo, il campo ore di ritardo, quindi l'ora di ritardo è la seconda, perfetto, quindi noi scriveremo 2, l'intervallo mettiamo 0, e vai, e ci dice 0, perché, se andiamo a vedere sulla tabella, il dipendente con il badge 101 ha fatto 0, lo è di ritardo. Ora, noi oltre a richiamare da questo qua la funzione, possiamo anche fare un trucchetto, sappiamo qual è l'indice, ok, in questo caso la malattia è la quarta rega, che facciamo? Premiamo ESC, facciamo incolla, no, facciamo qua, scusate, incolla, e vedete lui ci dà subito la funzione, eccola qua, qui che gli diciamo? Cambiamo, anziché 2, mettiamo 4, premiamo invio, tac, 1. Se andiamo a verificare, infatti, nella tabella, nella tabella orizzontale, alla riga 4, il valore dell'euro di malattia è 1, quindi ritornando, se io scrivo 100, qua, se scrivo per esempio 110, e premio invio, mi dà sempre questo valore. Ora, dobbiamo ritornare sulla tabella verticale, perché abbiamo un siglio telefono, disponibile,